Barbara. Buongiorno a tutti. Il titolo di questa iniziativa promossa dal Partito Democratico Rifare l'Italia rinvia all'analoga frase risorgimentale Fatta l'Italia, ora occorre fare gli italiani, attribuita a Massimo D'Azeglio all'indomani dell'Unità d'Italia. Attendibile o no che sia questa attribuzione, resta il vasto programma che le due frasi sottendono. Tuttavia, in nessuna delle due appare il soggetto. In particolare, chi dovrebbe rifare l'Italia? Chi dovrebbe mettere mano a questo lavoro titanico dopo lo squallido, devastante ventegno berlusconiano? Penso che il Partito Democratico qualche funzione in questo lavoro dovrebbe averla, una volta che abbia deciso di decidere quale ruolo assumere in questo nuovo risorgimento, dove i generali minacciano di diventare più numerose dei soldati. Francamente, e non credo di essere la sola, trovo abbastanza noiosa e sconfortante la ricorrente, miracolistica ricerca di chissà quale leader che dovrebbe rivelarsi come la Madonna alle folle in mistica attesa. Intanto il tempo passa e i problemi marciscono nella ricerca di formule che possono apparire non meglio identificati modelli nuovi. In questa attesa, da deserto dei tartari, si aprono invece praterie sterminate al qualunquismo, alle manovre equivoche dei furbastri, al disincanto per la politica vista come attività insidiosa, volta all'imbroglio dei cittadini virtuosi e sprovveduti da parte di bande di malfattori dediti al saccheggio della cosa pubblica. certamente esiste anche questo aspetto, ma la politica è fatta anche da molte persone per bene, che fanno del loro meglio per rispondere a legittime attese dei cittadini, che a loro volta non si sottraggono dal dare il proprio contributo alla soluzione dei problemi. Sono stata invitata qui a parlare quale sindaco di un comune terremotato, Reggiolo, il più gravemente colpito nella provincia di Reggio Emilia. Penso che ognuno di noi che c'eravamo ricorderà per tutta la vita i paurosi momenti vissuti la mattina del 29 maggio scorso, quando questa terra, a noi tutti così cara, ci parve improvvisamente nemica. In pochi attimi abbiamo avuto la consapevolezza della fragilità delle nostre opere, anche le più solide, che da un momento all'altro possono essere abbattute da forze irresistibili. Da quel brivido terribile che ha scosso la terra non è emersa soltanto la rovina polverosa della Rocca di Reggiolo e dei tanti comuni colpiti quanto e più duramente di noi, a quali va il nostro fraterno saluto, ma un modo nuovo di guardarci intorno, un modo nuovo di osservarci sul suolo che calpestiamo. Credo che il senso del bene comune sia uno degli aspetti più belli tra quanti ci fanno amare questa terra e la gente che la abita. Noi abitiamo la bassa, già terra di acque e paludi, che in natura si trova per buona parte dell'anno sotto il livello delle acque del Po. Nel corso dei secoli i nostri padri hanno lavorato con tenacia infinita per realizzare un grande progetto, per arrivare a condizioni di vita migliori, costruendo pezzo dopo pezzo gli argini, i canali, i paesi e la terra stessa su cui i paesi sono sorti. Ma soprattutto hanno dato forma al senso della solidarietà, della cooperazione e della dignità umana senza il quale ogni progresso materiale è povera cosa. Il terremoto ci ha ricordato che non siamo soli di fronte alle difficoltà, ci ha resi consapevoli che esiste una rete di strutture locali, regionali e nazionali che si fa carico, magari con qualche affanno, di compiti complessi e difficili. E che questa rete è fatta da tantissime persone, donne, uomini, giovani, cittadini, insomma, che si mettono a disposizione e si impegnano senza risparmio per il bene generale. E a Reggiolo certamente il lavoro non è stato risparmiato, ma è stato affrontato con la forza che talora scaturisce dalle emergenze più difficili. Anche l'Italia sta vivendo un'emergenza difficile, dalla quale sta uscendo con il contributo determinante del Partito Democratico, che con grande senso di responsabilità si è addossato un carico gravoso sotto il quale suda e sbuffa, ma che è pur necessario portare. Anche perché Monti non è il primo a ruffa popoli che passa per strada. È per me naturale, e credo possa esserlo anche per voi, stabilire un parallelo tra la situazione di Reggiolo, dei comuni terremotati e quella dell'Italia. Si tratta di ricostruire, di rifare per l'appunto, i nostri Paesi e il Paese, quello che i giornali scrivono con la P maiuscola. A Reggiolo, in questo lavoro che è appena cominciato, ma che è stato difficile avviare per la gravità della situazione del tutto eccezionale per noi, abbiamo potuto contare da subito sulle strutture locali di protezione civile, alle quali si sono immediatamente aggiunte quella della protezione civile provinciale, regionale e nazionale. I vigili del fuoco che non si sono risparmiati fatiche e pericoli. La Croce Rossa, che ha assistito con premura agli sfollati. I carabinieri, l'esercito e la polizia urbana che hanno garantito la sicurezza dei cittadini. Il personale del Comune, che con impegno ammirevole ha mantenuto efficiente la macchina amministrativa. La parrocchia, che ha lavorato in armonia con l'ente comunale. I tantissimi volontari, dai tecnici delle verifiche edilizie architettoniche ai semplici cittadini, che si sono messi generosamente a disposizione per dare una mano. Le banche e le imprese, che hanno stanziato fondi decisivi per la ricostruzione. E i tanti amici, privati e pubblici, tra cui molti comuni, che da ogni parte d'Italia hanno preso iniziative per portarci sollievo e solidarietà concreti. E anche se non è di moda, voglio ringraziare anche i molti politici che ci hanno sostenuto con un impegno attento e costruttivo per cercare di fare le cose per bene. La Regione Emilia Romagna e il Presidente Errani hanno coordinato in modo assiduo il lavoro dei comuni, dando le opportune disposizioni per intervenire con efficacia e tempestività. In tutto questo, il nostro lavoro di amministratori è stato anzitutto quello di ascoltare le richieste dei cittadini e di rispondere per quanto possibile celermente, senza ignorare le critiche comprensibili che pure ci sono state, cercando di dissipare ricorrenti voci fantasiose sullo stato delle cose, invitando la pazienza quando non potevamo agire altrimenti rispetto ai contrattempi generati da questa dura prova. Siamo stati anche fortunati perché abbiamo trovato cittadini pazienti e comprensivi. In questa cornice cominciano a intravedersi i tratti del disegno, la messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati, la pressoché regolare apertura delle scuole, rese tutte inagibili dal terremoto, con la costruzione a tempo di record di un nuovo edificio per la scuola media, la riapertura delle strutture sociosanitarie e assistenziali, la ripresa in emergenza delle attività commerciali, culturali e ricreative, l'avvio di tutti i cantieri pubblici. Se c'è una lezione da trarre tutto ciò, è questa, apparentemente ovvia. Insieme si possono risolvere problemi insolubili se affrontati da soli. Questo è ciò che serve per rifare l'Italia. Questo dovrebbe far giustizia della smaglia di liderismo che affigge tanta parte della politica italiana. Non abbiamo bisogno di capi, ma di persone oneste e capaci, personalmente integre, che vogliono ascoltare cittadini, di cui i cittadini possono fidarsi, cittadini che lavorino con gli altri e per gli altri cittadini. Il Partito Democratico ha un segretario scelto democraticamente con un consenso larghissimo, che ha dimostrato di saper svolgere con passione e capacità il proprio compito. Se ci sarà da rifare le primarie, le rifaremo. Ma non si può continuamente smontare il giocattolo per vedere com'è fatto e usare la tattica del più uno. Non è vero che ai cittadini non interessa la politica. Non è vero che la spingono come attività sporca. I cittadini rispingono la pseudo-politica dei mestatori, dei trasformisti, degli approfittatori. In Italia c'è un enorme bisogno di buona politica, perché c'è una mole enorme di problemi da risolvere. Ma l'Italia ha persone, forze e mezzi perfettamente capaci di affrontare e risolvere questi problemi. Allora, come rispondere alla domanda che ponevo all'inizio di questo intervento, chi oggi dovrebbe rifare l'Italia? Credo che il soggetto non possano essere che i cittadini. I cittadini che si arrabbiano, che battono i pugni, ma che non si sottraggono quando c'è da impegnarsi. Certamente a questi cittadini bisogna dare delle risposte, cercandole e realizzandole con essi. Bisogna dare lavoro, restituendo dignità al lavoro e a chi lo svolge. Bisogna riaffermare l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e allo Stato. Bisogna trovare nello Stato il volto dell'amico e non quello della macchina dello sperpero. Bisogna offrire una scuola decente dopo 50 anni dall'ultima incisiva riforma scolastica. Qualcuno potrebbe sorridere e dirci che sono obiettivi ingenui, obiettivi progressisti, ormai superati in un mondo globalizzato, informatizzato, finanziarizzato. Un mondo però disumanizzato. È vero, ma se il Partito Democratico non è progressista, che cos'è? Chi può esserlo? Chi altri, se non i cittadini progressisti, potrà rifare l'Italia? Come diceva un nostro grande attore, abbiamo un grande futuro alle spalle. Sta a noi decidere se vogliamo giocare al meglio il nostro ruolo o continuare a trastullarci come bambini mai cresciuti. Grazie.